Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il Tg10. L'apertura è dedicata alla mobilitazione prevista per domenica prossima dinanzi all'ospedale di Gela. Si raccoglieranno firme per chiedere l'apertura immediata dell'unità complessa di Senologia Brest Unit al presidio ospedaliero Vittorio Emanuele. Un vero e proprio forum urbano. Saranno presenti tutte le associazioni della città coinvolte da Cantiere Gela e Ados. Hanno dato la loro adesione anche le sigle sindacali e alcuni movimenti politici. Vediamo. Mobilitazione a Gela al fine di raccogliere 10.000 firme e chiedere l'apertura immediata dell'unità complessa di Senologia Brest Unit all'ospedale Vittorio Emanuele. Si trarà domenica dalle 8 dinanzi al presidio ospedaliero di Via Palazzi un vero e proprio forum urbano. Saranno presenti tutte le associazioni della città coinvolte da Cantiere Gela e Ados. Hanno dato la loro adesione anche le sigle sindacali e alcuni movimenti politici. Tutti insieme per invocare l'apertura dell'unità di Senologia complessa. Al Vittorio Emanuele di Gela è attivo d'anni un centro di Senologia che rappresenta uno spazio avanzato di prevenzione e cura del tumore al seno. Il centro opera d'anni pazienti affetti da patologie tumurali provenienti da tutta la Sicilia e dal meridione d'Italia e si colloca tra i primi reparti operanti nell'isola come numero di interventi e ciò grazie all'abnegazione dei medici del reparto e dell'associazione di volontariato. La regione siciliana lo scorso gennaio ha approvato l'atto aziendale dell'azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta in cui era prevista tra l'altro l'istituzione della Brest Unit. Ma adesso per la mancanza di fondi regionali non ci sono soldi per coprire le spese per la sua realizzazione. La mancata apertura del centro ospedalizzato comporterebbe un danno per la salute delle persone in una realtà dove la patologia tumorale ha percentuali di presenza alta in un territorio peraltro che presenta rischi ambientali critici. La raccolta firme continuerà anche nei prossimi giorni in vari punti della città e del territorio siciliano. Un incontro urgente con il manager dell'azienda di Caltanissetta, Carmelo Iacono, è stato chiesto intanto da CGL Cisle Will al fine di conoscere ed affrontare le criticità che tutti i presidi ospedalieri della provincia di Insena stanno attraversando. Ora, maggior ragione in merito ai tagli previsti. Proprio qualche settimana dietro l'assessore regionale alla sanità, Valdo Gucciardi, ricordano le sigle sindacali, aveva assicurato che non ci sarebbe stato alcun taglio. E invece CGL Cisle Will rivendicano chiarezza da parte della politica e unità di metodo per raggiungere gli obiettivi. Mentre la povertà reale aumenta, il governo regionale complica la vita ai cittadini, purtroppo. Sulla vicenda dei tagli alla sanità abbiamo sentito il deputato regionale di Forza Italia, il gelese Pino Federico. Indice accusatorio puntato all'indirizzo del governo isolano. Sentiamo. Io ho partecipato qualche sei mesi fa a un incontro dove realmente nella divisione delle risorse a livello delle aspe siciliane, rispetto al 2011 quando ce l'avevamo al governo, il governatore Lombardo e io il Presidente della provincia, avevamo messo come tetto spesa, che significa tetto per il personale, avevamo messo 141.870.000 euro. Adesso vado a vedere che l'unica aspe che perde risorse rispetto al 2011 è l'aspe dei Caltanissette. Ci hanno dato 5 milioni in meno, l'ho denunciato questo sei mesi fa, l'ho continuato a denunciare, non se ne era accorto nessuno, nessuno è intervenuto. Adesso finalmente se ne stanno accorgendo. Io l'ho sempre detto che mancando queste risorse tre cose non si potranno fare. L'utine di Gera, la breast unit e non si potranno stabilizzare i precari della provincia regionale di Caltanissette, dipendente dell'aspe. Quindi è un dramma realmente. In più succede che il governo del PD e quindi Gucciardi ci carica ancora altri 2 milioni e 3 che sono le risorse che servono, praticamente le risorse che servono a mantenere il 118, che è una struttura regionale. Ce ne sono tre in Sicilia, Palermo, Caltanissette e Catania. Ebbene, l'aspe di Caltanissette si dovrebbe caricare anche a questi 2 milioni e 3. Questo significa che non si potrà assumere nessuno, che i servizi non potranno essere garantiti, per cui il personale se ne andrà. Sicuramente i migliori professionisti che abbiamo, soprattutto a Gera, perché Gera c'è la carenza e quando nel 2011 era stata fatta una programmazione provinciale dell'aspe, cos'era stato previsto su Gela? Era stato previsto la radioterapia che allora l'assessore russo ha aperto, l'ospice che è già stata aperta e c'erano altre due strutture. Ecco che quelle risorse servivano per aprire le altre due strutture. L'utile è la Bersiunet. Ma perché alla fine sembra uno scaricabarile? La colpa è di questo, la colpa è di quell'altro. Perché invece non si agisce concretamente per la salute dei cittadini? Quando si governa si hanno delle responsabilità. Se qualcuno mi dice, io parlando con l'assessore Gucciardi in quella seduta, l'assessore Gucciardi mi dice che è stato fatto un errore. Scusate, è stato fatto un errore, ma viene penalizzato il territorio di Gela, quindi si deve intervenire, devono recuperare. E non può essere che solo perché è stato fatto un errore viene penalizzato un territorio. Io mi auguro che ognuno faccia la sua parte. E che il PD, inutile che si nasconda dicendo che è il governo regionale, è il governo del PD, l'assessore Gucciardi del PD Rezziano, e quindi che si muovono tutti affinché le risorse arrivano e vanno a garantire quei servizi che nella divisione provinciale servivano all'aspe di Caltanissetta. Perché è vero che sono fatti a Gela, ma sono servizi che servono a tutta l'aspe. Per della beca politica che fa? Ne piange le conseguenze alla cittadinanza? Non è il problema della conflittualità. Io dico solo le cose. Noi nel 2011, noi avevamo previste queste risorse. Oggi qualcuno li ha tolte. Qualcuno ce li deve ridare. Cioè non ci devono mangiare niente, ci devono dare quello che ci spetta. Perché mentre tutte le aspe siciliane non perdono un euro, anzi, l'aspe di Trapana aumenta 6-7 milioni di euro rispetto a budget del 2011, noi perdiamo 5 milioni. Quindi è inconcepibile che se aggiunto con le risorse 118 sono 7 milioni e 3. Per la prima volta nella sua storia il Consiglio Comunale di Gela potrà essere seguito in diretta streaming da chiunque sia interessato alle tematiche trattate. Non soltanto dai cittadini di Gela, ma da ogni persona che voglia comprendere il lavoro che i rappresentanti eletti dal popolo svolgono in aula consigliare. È un passo importante che arriva dopo il lungo lavoro politico del Movimento 5 Stelle, che arriva proprio quando in aula è presente il Movimento 5 Stelle. È una cosa mai fatta prima, nonostante da anni questa tecnologia sia disponibile. Lo scrivono in una nota i consiglieri Grillini, Enzo Giudice, Virginia Farruggia, Angelo Amato e Simone Morgana. Avevamo più volte richiesto questo servizio, spiegano i Grillini, segnalando come tutto il Consiglio avesse deliberato per avviare la diretta via web. Ora, dopo un anno di attesa, arriva la piena trasparenza sull'attività d'aula del Consiglio Comunale. Siamo molto soddisfatti perché tutte le forze politiche hanno subito accolto positivamente questa scelta, votandola già nel mese di novembre scorso. Il cambiamento parte dalle piccole cose e poter assistere all'attività politica è un modo concreto per rendere tutti partecipi della vita della comunità a cui si appartiene. Una webcam trasmetterà in diretta il civico consesso sul canale YouTube della Comune di Gela. La piattaforma è uno degli ultimi strumenti social adottati dall'ente di Piazza San Francesco dopo l'attivazione delle pagine ufficiali su Facebook e Twitter. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Domenico Messinese e dal presidente del Consiglio Comunale, Alessandra Ascia. La diretta streaming delle sedute consigliarie hanno commentato è un ulteriore mezzo di trasparenza che avvicina le istituzioni al cittadino. Una giornata formativa per la sicurezza stradale rivolta a famiglie e giovani è stata promossa dall'assessorata alla Polizia Municipale del Comune di Gela retto da Eugenio Catania. L'iniziativa di educazione stradale integrata sarà tenuta dagli agenti coordinati dal comandante Giuseppe Montana, sabato 28 maggio alle 10 al Cineteatrantidoto di Macchitella. Saranno illustrati i principali comportamenti da evitare in strada e quelli necessari a ridurre i rischi di un incontro che non sarà una lezione frontale classica ma un confronto vivace e costruttivo con la partecipazione della compagnia teatrale Antidoto. Crediamo fermamente nell'utilità di affiancare all'attività di repressione e di controllo momenti di formazione e prevenzione con i cittadini ha commentato l'assessore Catania la sensibilizzazione al rispetto del codice della strada non è soltanto una questione di civiltà ma pone al centro di tutto la salvaguardia di vite umane. L'anno scorso la Polizia Municipale ha rilevato 204 incidenti stradali uno dei quali mortale mentre in più della metà dei casi i protagonisti sono rimasti feriti in sette sono stati ricoverati con prognosi riservata. Eserci sempre la sintesi della quotidianità del nostro impegno e l'idea del poliziotto al servizio concreto del cittadino esserci sempre vuol dire presidio di legalità così il questore Bruno Megale ad un anno dall'insediamento ha voluto racchiudere nel suo discorso il senso e l'importanza del 164esimo anniversario della festa della Polizia di Stato quest'anno celebrata al Teatro Regina Margherita un affettuoso saluto dopo la lettura dei messaggi del Capo dello Stato del Ministro dell'Interno e del Capo della Polizia quello che il questore ha voluto porgere alle autorità e a tutti i poliziotti intervenuti alla cerimonia occasione anche per tracciare un bilancio dell'attività istituzionale svolta nell'ultimo anno Eserci sempre per noi non è soltanto un motto privo di contenuti ma vuol dire la quotidianità del nostro impegno vuol dire essere vicini al cittadino e questo è esserci sempre anche un modo per ricordare tutti quelli che si sono sacrificati per questo obiettivo per me motivo di grande orgoglio oggi premiare i poliziotti che si sono distinti in questo oggi è la festa dei poliziotti ed è giusto dare quel riconoscimento per il sacrificio che queste persone hanno dato cercare di ottenere risultati sempre più soddisfacenti essere sempre più vicini alla gente dare un'immagine della polizia molto più vicina alla gente Un ruolo ancora più importante in questo momento storico in cui stiamo vivendo un'allerta terrorismo particolarmente consistente e per cui è importante rinforzare il concetto della polizia di Stato delle forze dell'ordine per l'importanza del presidio che hanno sul territorio Sempre al nostro fianco un'istituzione che insieme all'arma dei carabinieri è stata fedele al fianco della magistratura 8 anni di procuratore della Repubblica al Caltanissetta 8 anni in cui la polizia in tutte le sue articolazioni dalla squadra mobile alla polizia stradale è stata sempre un esempio di efficienza ma soprattutto di vicinanza alla popolazione la divisa della polizia è una divisa amata dai cittadini nisseni ma da tutta la popolazione italiana i cittadini si sono sempre rivolti con fiducia alla polizia e così anche noi magistrati ci siamo sempre trovati a loro fianco con ampia fiducia e con la speranza che insieme a loro di intraprendere sempre un cammino di regalità ma al servizio dei cittadini convegno dell'associazione nazionale gruppi ormeggiatori e barcaioli porti italiani domani alle 10 nella sala plenaria del castello di Falconara il tema che sarà affrontato è il servizio di ormeggio alla sfida europea saranno presenti tra gli altri il presidente della regione Rosario Crocetta Vincenzo Melone comandante generale del corpo delle capitanerie di Porto Pietro Carosia comandante della guardia costiera di Gela e il primo cittadino Domenico Messinese l'euro parlamentare Salvo Pogliese Cesare Guidi presidente di Angopi darà il benvenuto Vincenzo Casciana capogruppo ormeggiatori e barcaioli di Gela quarto concorso enogastronomico Memorial Giussi Marchica ieri all'istituto alberghiero Luigi Sturzo di Gela diretto da Grazio di Bartolo Giussi Marchica era un'insegnante che prestava servizio nello stesso plesso scomparsa prematuramente nel 2013 ieri gli studenti di cucina si sono cimentati nella preparazione di piatti vegetariani e nell'abbinamento col vino gli studenti di sala hanno servito e presentato le pietanze preside quarta edizione del concorso è una tradizione che si rinnova ogni anno i ragazzi sperimentano nuove pietanze e si mettono in gioco quest'anno il collegio di gente ha proposto proprio l'istituzionalizzazione di questo concorso per ricordare la professoressa che ha dato tanto a questa scuola e ha contribuito allo sviluppo e alla notorietà dell'alberghiero ma soprattutto ha contribuito al bagaglio culturale di questi ragazzi l'hanno voluta bene è stata una processa stimata e come dicevo poc'anzi ha messo in campo quella che è l'empatia cioè la capacità di medesimarsi in loro e di farsi amare e quindi è stata veramente qualcosa di esempio per coloro i quali affronteranno questo mestiere che è l'insegnamento e sicuramente l'istituto non può esimersi da non ricordarla e da fare il possibile perché ogni anno con questo concorso si possa ricordare continuamente quello che è stato quello che è stato la sua capacità di lavoro capacità di mettersi in gioco ma soprattutto la capacità di relazionare con tutti i colleghi e con i ragazzi Preside ciò che si nota anno dopo anno è un innalzamento del livello perché i ragazzi assumono ogni anno che trascorre più senso di responsabilità ma soprattutto maggiori competenze e questo viene fuori anche nell'elaborazione delle pietanze nel servizio insomma in tutto ciò che fanno certo sicuramente ogni anno i ragazzi sperimentano dei piatti nuovi quindi non fanno estricitazione e ciò migliora la loro competenza quindi la capacità di mettersi in gioco ma soprattutto inventano dei piatti nuovi sono quelli poi più importanti perché alla fine sono quelli che nel mercato vengono desiderati negli alberghi e nei posti dove c'è la ristorazione come sempre si preparano al loro futuro professionale sì si preparano e cercano un pochettino veramente di imbedesimarsi in quelli che sono i desideri di coloro che vanno negli alberghi e quindi si mettono in gioco con la possibilità di poter dare il meglio di se stessi da Gela il polo industriale più sud d'Europa Transfrigo Root Italia Assotir Associazione Italiana Imprese di Trasporto lancia l'ultima chiamata all'Italia e l'Europa contro la crisi dei mercati la concorrenza internazionale la Sicilia sia hub del Mediterraneo una vera piattaforma intermodale costrade autostrade ferrovie porti e aeroporti crocevia dei mercati dell'Europa che guardino i paesi frontalieri alle economie emergenti sono questi i temi che verranno affrontati sabato 28 maggio alle 9 nei locali dell'hotel Villa Peretti in occasione del convegno nazionale la Sicilia hub del Mediterraneo prevista la presenza tra gli altri del presidente della regione siciliana Rosario Crocetta del sindaco di Gela Domenico Messinese del presidente regionale Assotir Salvatore Sciagura e del sottosegretario dei trasporti la senatrice Simona Vicari saranno due le tavole rotonde moderate dalla giornalista Monica Adorno in cui si alterneranno addetti ai lavori e politici ci fermiamo c'è la pubblicità torniamo tra poco restate con noi bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale si concludono domani alla scuola Mattei di Gela diretta da Agata Guelli le giornate della legalità appuntamento previsto per le 10 con l'inaugurazione dei nuovi spazi ristrutturati in seguito ai finanziamenti del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale interverranno il sindaco Domenico Messinese Salvatore Cardinale presidente della corte d'appello di Caltanissette e Nello Musumeci presidente della commissione regionale antimafia si è concluso il progetto di pittura L'ITIS dipinge in collaborazione con l'Any Group Club Gela vediamo L'ITIS dipinge 60 studenti e gli allievi dell'Accademia di Pittura Any Group Club si sono adoperati nell'ultimo mese in un inedito progetto di pittura che nasce da una intuizione di Giacomo Alessi presidente del Consiglio di Istituto e componente del direttivo dell'associazione dopo lavoristica Any Group Club Gela realizzati i due dipinti di paesaggi moderni su tele con colori acrilici la finalità è stata quella di avvicinare alla cultura pittorica ragazzi che provengono da studi prettamente tecnici i lavori sono stati seguiti dall'insegnante dell'Accademia del Club Valentina Catalano L'obiettivo dell'Istituto Tecnico Settore Tecnologico Morselli è quello di offrire la più ampia gamma di possibilità di offerta formativa ai nostri studenti la collaborazione con l'Any Group ci ha dato la possibilità di mettere alla prova questi studenti nell'area della pittura presso la nostra scuola il disegno si fa ma è disegno tecnico non è disegno artistico quindi con questa occasione gli studenti hanno potuto mettere un po' a frutto la loro sensibilità e grazie alla bravura e alla pazienza della maestra la dottoressa Catalano sicuramente sono emerse delle abilità di questi studenti ma il nostro obiettivo non era solo questo era anche quello di aprirci al territorio di iniziare delle collaborazioni durature con soggetti sensibili alle problematiche degli studenti in particolare mi sento di ringraziare il presidente dell'Any Group il signor Catalano con il quale abbiamo iniziato abbiamo solo iniziato oggi una collaborazione che proseguirà nel futuro e che comporterà l'avvicinamento dei nostri studenti anche ad altre attività in particolare non solo artistiche ma anche sportive quando la signora vi scuso e mi ha parlato di questa iniziativa onestamente ho colto la palla al balzo perché diciamo che questo è il fine ultimo dell'Any Group Club cioè l'aggregazione tra i giovani da sempre portiamo avanti certe iniziative non solo sportive ma anche culturali rivolte ai giovani non solo ma anche a tutte le fasce di età la collaborazione con la dirigente scolastica la signora Ciotta è stata molto proficua abbiamo realizzato questa manifestazione di pittura che si è svolta in due giorni e oggi c'è la chiusura quindi il terzo giorno siamo molto contenti intanto della collaborazione ma soprattutto di quello che è nato da questa collaborazione cioè non solo quello che ha prodotto ma anche il tipo di entusiasmo che è emerso tra i giovani l'amministrazione comunale di Gela ha affidato il giardino dell'acropoli al Lions Club per la prestazione gratuita di servizi di manutenzione ordinaria che verranno svolti con l'ausilio della cooperativa degli ex detenuti il relativo disciplinare firmato dal settore urbanistica del comune e dal presidente del club service Antonio Gagliano ha la durata di un anno rinnovabile per ulteriori 12 mesi l'area verde stesa per 5.000 metri quadrati resterà destinata ad uso pubblico i lavori che partiranno mercoledì 1 giugno nel rispetto delle norme in materia di sicurezza professionale prevedono opere di scerbatura potatura pulizia rimozione dei rifiuti per tipologia irrigazioni piccole sostituzioni riparazioni apertura e chiusura degli ingressi esistenti il comune si riserva di eseguire dei sopralluoghi periodici la proposta del Lions Club ha commentato l'assessore all'urbanistica Francesco Salinitro oltre a restituire la piena fruizione pubblica di uno spazio comunale e dare la possibilità di lavoro seppur precario intende promuovere attività di rieducazione e inserimento sociale per dei cittadini che vivono in condizioni di esclusione e demarginazione cerimonia di premiazione all'anfiteatro della scuola Michele Abbate dei vincitori del concorso sul tema dell'alimentazione dedicato ad Aldonaro il giovane medico sancataldese tragicamente scomparso il 14 febbraio del 2014 un percorso per scoprire corretti stili di vita tra cui una sana alimentazione che ha coinvolto gli studenti dell'istituto comprensivo Martin Luther King in una serie di incontri promossi in sinergia con l'ASP e l'ordine dei medici di Caltanissetta un progetto che ben si sposa con l'educazione alimentare rivolta ai più piccoli e che ha visto a loro disposizione delle loro famiglie all'interno della scuola anche uno sportello curato dalla dietista Anna Carletta Il percorso di educazione alla salute alimentare è un percorso privilegiato da questa scuola per educare le giovani generazioni e a una sana e corretta alimentazione attraverso anche il rispetto dell'ambiente e le tradizioni gastronomiche locali Se abituiamo i nostri bimbi a mangiare in maniera sana ad avere degli stili vita anche motori sani sicuramente andranno incontro molto più difficilmente a delle patologie nell'età più adulta Ricordiamo tra l'altro che l'obesità già è nei primi anni di vita che si manifesta e che si mantiene poi per tutta la vita Primo premiato dalla giuria composta da Giancarlo Grasso componente dell'Ordine de'Medice dalle insegnanti Maria Grazia Gianmorcaro e Melina Caci Francesco Centorbi della terza A della Michele Abbate assegnati anche due premi speciali alla terza A e B della scuola Santa Flavia della terza A della Michele Abbate Sono molto contento Aldo Naro era un medico laureato da poco in una discoteca solo per un cappellino e se n'è andato Per mangiare sano bisogna mangiare un po' di tutto però con moderazione Aldo aveva scelto la professione medica non come impiego o come diciamo attività lavorativa aveva scelto la professione medica per passione la professione medica non soltanto in sé per sé ma anche in quanto attitudine abitudine agli stili di vita lui stesso praticava molti sport frequentava la palestra e si dava da fare per mantenersi in perfetta in una linea perfetta era medico era riuscito a diventare medico con ottimi risultati e dunque chi meglio di lui può rappresentare stasera qui diciamo questo premio che viene dato a questi ragazzi di questa scuola che chiaramente chiedendo chi fosse Aldo Naro potrà prendere le notizie che ho appena detto ritorna la manifestazione 4 amici al bar promossa da Holiday Web e Croci a Tardi si comincia sabato prossimo dalle 17 a mezzanotte appuntamento in Vico Cadorna si tratta di una rassegna d'arte con esposizione di quadri sculture e fotografie è previsto per giovedì 2 giugno prossimo al Palacossiga dalle 10 il Twirling Open Day l'obiettivo è quello di diffondere la pratica della disciplina sportiva e artistica ancora poco conosciuta prevista la presenza di campioni nazionali e regionali l'evento porta alla firma dell'associazione sportiva Niscemi Twirling del Comitato Regionale bene non ci sono altre notizie il telegiornale termina qui grazie per la gentile attenzione per aver scelto anche oggi la nostra informazione vi ricordiamo che notizie, servizi e approfondimenti sono disponibili sul nostro portale all'indirizzo web www.tg10.it vi ricordiamo inoltre che il canale 10 è dotato di un altro strumento che è il televideo sempre aggiornato grazie arrivederci grazie a tutti